Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di raccogliere 5 lucciole alla foresta frignante. Praticamente se atterrate qua dove sono io, qui, praticamente, vi capiterà facilmente di imbattervi nelle lucciole. Vedete, ce ne sono davvero tante, ovviamente sono casuali, però diciamo se atterrate qua vi sono buone probabilità di raccoglierne 5 e quindi completare la sfida. Come vedete ce ne sono diverse, quindi atterrate qui e vi fate un giro nei dintorni e riuscirete sicuramente a trovarne 5 per completare la sfida.